Si è spento nella mattinata di questo venerdì 26 marzo Francesco Garatti, persona molto conosciuta e apprezzata in Valle Camonica. Nato il 23 aprile del 1951 nell'allora Pian d'Artogne, Garatti per Tutinino, dopo aver svolto il servizio militare nelle Marche, ha iniziato presto a lavorare presso alcune imprese del nostro territorio. Molto coinvolto anche nel mondo politico, nel 1978 è stato eletto consigliere comunale presso il comune di Pian Camuno, dove dal 1982 ha ricoperto la carica di sindaco. Delegato presso l'Assemblea della Comunità Montana e del BIM di Valle Camonica, negli anni Ottanta entra a far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Metano e nel 2006 viene nominato consigliere nel CDA di Valle Camonica Servizi, diventandone presidente nel 2007. L'anno dopo diviene consigliere del CDA di Integra, società che si occupava del teleriscaldamento per i comuni della Valle, per poi divenirne presidente. Figura storica del gruppo Valle Camonica Servizi ha contribuito alla sua evoluzione, non facendo mai mancare il proprio impegno verso l'ambiente. Marito, padre e nonno, a seguito di svariati anni di malattia, ha lasciato nel dolore la famiglia, ma anche tutte le persone che ne hanno incrociato il cammino in questi lunghi anni di onorata carriera.